Ciao a tutti! Ogni volta che uscirà un nuovo video sul nostro canale YouTube, sul nostro profilo Instagram delle storie faremo un quiz che come tema avranno l'argomento del video. Le persone che indovineranno il maggior numero di risposte riceveranno pubblicità sia sulle nostre storie Instagram sia sul nostro canale di YouTube. Quindi vi faccio vedere le vincitrici del primo quiz. Grazie mille per aver partecipato. Adesso iniziamo con il video. Ciao! Ecco a voi dieci cose che forse non sapete sui cavalli. Il cavallo vede due immagini diverse. Il cavallo ha un campo visivo molto ampio. I suoi occhi gli permettono di vedere due immagini diverse, una per ogni occhio e di coprire circa 350 gradi. La cosa particolare è che ciò che vede l'occhio destro non corrisponde a ciò che vede l'occhio sinistro. Infatti inviano le immagini ad emisferi diversi del cervello. È un po' come se il cavallo percepisse due realtà diverse. Differenziano le emozioni e comprendono la morte. Il cavallo è un animale sensibile che distingue vari sentimenti come amore, felicità, tristezza, frustrazione, paura o ansia. Può anche sentirsi triste per mesi, per la morte di un suo simile o anche del suo cavaliere. Per scoprire se un cavallo ha freddo, tasta la zona dietro le sue orecchie. Se è fredda, avrà dunque freddo. È consigliabile non far mangiare l'erba fresca oppure appena tagliata ai cavalli, perché potrebbe causare delle coliche, essendo più difficili a digerire. Quindi cercate di evitare. Percepiscono il respiro del cavaliere Un'altra curiosità sui cavalli è che, essendo animali da preda, sono molto percettivi. Possono intuire ciò che la persona prova semplicemente attraverso il suo respiro e usarlo come segnale di pericolo per ciò che succede nell'ambiente circostante. I loro denti non smettono mai di crescere I denti della razza equina crescono per tutta la vita. Servono infatti per stabilire le taglioni esemplare. Basta osservare l'usura degli incesivi che deriva dall'alimentazione e l'utilizzo che è stato fatto dell'animale. Spesso guardando questi video ci sembra che i cavalli stanno ridendo. Eppure non stanno ridendo, bensì stanno odorando e la smorfia che stanno facendo si chiama Flemen. Nonostante i cavalli siano prede e hanno dunque molta paura dei pericoli, sono animali piuttosto curiosi. I cavalli non possono vomitare, per questo per loro anche una colica può essere fatale. La nascita di un puledro avviene dopo 11 mesi dal concepimento. Molto raramente nascono due puledri. Sapevate tutte le cose oppure qualcuno vi sfuggiva? Scrivetecelo giù nei commenti. Ricordate di attivare la campanella e di seguirci per scoprire nuovi video. A presto! A presto!